e passiamo a chiudere la categoria giordia di Borreca, prima semifinale vi è andato davanti a tutti con la Braviglietta Rolani, con la Marcella Lui ha finito veramente fermissimo, 2-3-4-6, no Alessandro Belli scusato Bianni, in prima posizione, Bianni in cinque trova la doppietà per il postato, prima semifinale, in casa, l'inversità, in casa, l'inversità in casa, il pallato, Bianni in casa, quindi doppietà per il postato, prima semifinale l'opposizione